In Turchia ci si appresta a riaprire le porte ai turisti. Nella regione di Antalya, tra le più amate dei vacanzieri, gli hotel si preparano a riprendere le attività dopo mesi di battute d'arresto causate dalla pandemia, che nel solo 2020 ha provocato una flessione del 69% negli introiti del turismo, pari a 22 miliardi di dollari perse rispetto all'anno precedente. Siamo stati chiusi per circa 20 mesi. Siamo contenti della revoca delle restrizioni di volo da parte della Russia, perché il 70-80% degli ospiti nel nostro hotel sono russi. L'ulteriore e graduale eliminazione delle restrizioni da parte dell'Europa ci dà altra speranza per il resto della stagione. Nel 2019 i turisti stranieri in Turchia montavano quasi 43 milioni, 7 di quali in arrivo dalla Russia, 5 dalla Germania e 2 milioni e mezzo dalla Gran Bretagna. L'anno successivo il numero era sceso a 12 milioni. Credo che l'allentamento delle restrizioni di viaggio verso la Turchia fosse molto atteso, spiega questa turista tedesca, se si allentano le restrizioni nei confronti di altri paesi, come la Spagna, non si dovrebbe escludere la Turchia, perché anche qui la gente ha urgente bisogno di visitatori, altrimenti il turismo crolla. Il Regno Unito e la Francia hanno inserito la Turchia nella lista rossa di paesi di rientro dai quali la quarantena è obbligatoria e anche la Russia aveva sospeso i voli in aprile. La paura di un'altra stagione in fumo ha spinto così il governo a introdurre un blocco totale per i residenti, permettendo però ai turisti di muoversi liberamente. Per questo anche nelle vaccinazioni ai dipendenti del comparto è stata data priorità assoluta.